Il teorema di venti minuti che è un corollario del teorema del Dini, che è il teorema dell'investibilità locale. Qual è la situazione? Io ho che ho F definito su una pezzo A che è da N. A una linea per N. Poi so che x con 0 appartiene da A, so che F di classe C1 su A, e poi so che il determinante di lo Iacupiano di F nel punto X è diverso da Z. O gli applicati F punto X, o lo scrivete così, o lo scrivete F index, è la stessa cosa, basta che vi ricordiate che la funzione non è di una variabile, è da N per N. Quindi questa è una variabile, è da N per N. Allora, qual è la tesi che esiste U di x con 0 e V di F di x con 0? Tari chi è F da U in V e F a meno 1 sono di classe C1, cioè che F è difiomorfismo. E questo vuol dire che questo è C1 su U e questo è C1 su. Quindi la funzione è invertibile localmente, in un intorno del punto, e dopodiché non solo è invertibile, ma è immersa e pure verificata. Questo è il termine. Questo termine è un'applicazione diretta dal termine del Dini. Adesso facciamo la dimostrazione. Allora, prendiamo gli intorni dicendo X con 0 e tirare giù uno su N. Questi chiamiamo un buon N. Ok? Io dico che esiste un I tale che F rispetto a un I è finitivo. Per quale motivo? Allora, altrimenti, per assunto, esistono X N, X primo N, X secondo N, eh? Allora, io dico che F rispetto a un I è finitivo. E poi tale che F rispetto a un I è finitivo. Allora, noi sappiamo che questo è uguale, allora, prendiamo F con I di X con N meno F con I di Y. Questo è uguale al gradiente. Questo è uguale al gradiente di F con I calcolato in X I N, che moltiplica a un I. Che moltiplica a scalare X primo N meno X secondo N. Ok? Possiamo anche dividere per questa norma e moltiplicare questa. Quindi, posso anche scrivere, così, questa differenza. Allora, notate che questo lo posso dividere perché è diverso da zero. Però il numeratore, invece, era uguale a zero. Quindi, io so che questo è uguale a zero. Questo lo posso scrivere per ogni I, per ogni I compresi tra un 1 e N grande, per tutte le componenti. Adesso, cosa posso dire? Questi v, questi quettori qui, li chiamo V con N. V con N ha norma unitaria. Quindi, esiste V con N G che convergia V. Siccome la superficie della sfera unitaria è conclusa con un'imitaria, quindi posso dire che è questo. Allora, che cosa avrò? il vettore il vettore lo chiamo come il vettore W I N, il vettore di A per coordinate, il, scusate, la matrice di A per coordinate, il gradiente di F I calcolare di un simbio N. Metto il gradiente 1 gradiente di F N si N N Allora, questo lo chiamo W N la matrice W N Tutti i gradenti li metto in una matrice. Quando N tende a infinito, quindi quando A che N se invece di N ci mettete N in G, questo tende cosa succede? A cosa tende questa matrice? Questa matrice tende, lo chiamo canale di F calcolare in B. Ok? Per qualche motivo, ogni V tende alla gradiente di F, e questo che tende a credere di F è uno calcolato nell'origine perché questi punti qua stanno sulla congiungente di questi. Siccome tutti e due punti vanno a zero, la congiungente è un po' a zero. Diciamo che ogni punto che sta dalla congiungente è un po' a zero. Quindi, con volente per con volente, questo è un po' a no. Quindi, che cosa succede? Che io ho zero uguale al limite su N di W N scala al 2 N. questo qua mi fa W N scala al 2 N G. Limite su G. Perché questo converge solo su F ma questo cosa mi fa? Mi fa lo diamo piano di F nell'origine per E V è un vettore che non è il vettore nudo perché è un vettore di norma unità. La norma è continua, quindi la norma vale sempre a 1 al limite. Allora, che cosa mi succede? Mi succede che questa è una matrice invertibile per ipotesi. c'è il termine a differenza a zero quindi invertibile. Questo è un vettore non nullo e lo mando a zero. È assoluto. Se la matrice è invertibile l'unica soluzione dell'equazione omogenea a per v uguale a zero per v uguale a zero. Quindi questo è assoluto. Quindi l'assoluto da dove è nato dalla che è supposto che questa non fosse mai inizio. Quindi esiste il nu tale che F rispetto a 1 è inizio. Bene. Questo l'abbiamo dimostrato quindi possiamo raggiungere. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a prendere dobbiamo applicare la lettera di quindi andiamo a prendere questa funzione qua F grande di xy uguale y meno f di x ok a adesso andiamo a considerare ascolate questa è la x con zero non è lo jacobiano non era in zero era in x con zero mi sono sbagliato pensavo di aver trasladato comunque adesso era generalmente giusto. Allora andiamo a fare lo jacobiano di F nel punto x con zero e x con zero allora df in dy è la matrice identica m per n m di dy quando io dedico rispetto a y df in dx però in x con zero in zero non è altro che meno df in dx calcolato x con zero che ha determinante diverso da zero oh questa mi interessa perché mi interessa questa perché se io applico il teorema del dini rispetto alla y e già lo so che è y uguale a f di x quindi non trovo niente di uno cosa trovo invece siccome questo qua è diverso io so che esiste allora per la testa del teorema di d esiste un intorno v di y con zero tale e e un intorno non lo chiamiamo un chiamiamo il doppio di x con zero tali che per ogni y appartenente a v esiste un unico phi di y appartenente a v doppio tale che tale che f di phi di y y è uguale a z lo stiamo applicando dall'altra parte perciò non devo scrivere x f di x ma y più phi di y ok ma questo che significa? significa y uguale f di phi di y uno potrebbe dire che che questo mi dice già che f è uguale a phi a meno 1 no? se vi ricordate per esempio se io faccio la funzione seno di arcoseno tangente di arco tangente tangente di arco tangente di x è uguale a x per ogni x arco tangente di tangente di x è vero solo per x compreso la mia pi che è un mezzo e pi che è un mezzo quindi ci vogliono tutte e due per dire che le due funzioni sono immerse l'una all'altra ci vuole che f composto phi sia l'identità ma anche phi composto f sia l'identità ma ci vuole che f di y sia uguale a x allora però io ho questo qua la mia f non la vado a considerare più su v w ma la vado a considerare su v w intersecato quello con i allora questa qua f e quella in mezza qua c'ho f di x come in mezza via sempre phi ok per quale motivo e qua ci metto l'immagine ok la funzione immersa in questo caso in questo caso io so che quindi questo qua sta in un in ma lì io so che la funzione iniettiva quindi io so che y è uguale a f di x scusate se ho detto male quindi so che a di fi di x è uguale a x ok e quindi f e fi f non è l'inversa di fi non è l'inversa di f diciamo mai sicuramente l'inversa di f in l'intersezione di questi due siccome questi due sono intorni questo è un intorno a quello se proprio volete essere completi dovesse dimostrare anche che diciamo l'immagine è un intorno dall'altra parte ma è così quindi questo non me lo faccio vedere in dettaglio però la cosa importante è che non solo diciamo è un intorno perché? perché io qua invece di prendere y in v dovrò prenderlo in v intersegato fi a meno uno di questi di un in e quindi comunque sono i fi e di classe c u e quindi da quest'altra parte questo sarà in v intersegato fi a meno uno ok? quindi questa è la vella questa è la vella questo è il c u questo è il c u qua sovvallano tutte e due f con posto fi è l'identità fi con posto f è l'identità sono uno e mezza è l'altra e quindi f è un dife ma è questa completa la dimostrazione ok